buongiorno a tutti oggi abbiamo la schicetta doppia oggi pennette con formaggio e prosciutto e poi era avanzato il risottino a bianzole di ieri quello monzese con lo chef che giustamente si è arrabbiato perché devo tenere separati i due ingredienti cioè le salsicce da una parte e il riso dall'altra adesso lo so e non sbaglio più comunque guardate sarà anche tutto riscaldà us ma uno spettacola us lo stesso guardate che bello mo magno che c'ho fame anche perché non ho dormito una beata giovanna e ieri il genio della lampada è stato sveglio fino alle 7 alle 9 e mezza in piedi gli ha dormito due ore e mezza poi arrivo fa no signor de stefani non era le 10 e mezza alle 14 non è arrivata la mail no non mi è arrivata la mail e quindi vabbè stato lì fino alle 2 altrimenti cosa facevo tornavo a casa poi ritornavo indietro però mi hanno risolto ciao